Siamo con Cosimo Cordaro, direttore editoriale di Stop Secret Magazine, che oggi ha organizzato la prima edizione della Fiera del Credito. Quali sono gli obiettivi e i numeri di questo evento? I numeri di questo evento sono sostanzialmente questi. Abbiamo organizzato due eventi all'interno dell'auditorium. Oggi la prima giornata ci sarà l'Acme Day, domani un evento dedicato al mondo degli NPL. In tutto ci saranno 12 focus tematici dedicati a tutti i servizi dedicati al mondo del credito e abbiamo ben 1963 partecipanti. Un numero che naturalmente non ci aspettavamo e siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che sta riscuotendo molto successo. Gli obiettivi di questa giornata? Già il titolo dicono molto di quali sono. La prima Fiera del Credito l'abbiamo intitolata l'Era della Condivisione. Abbiamo preferito e voluto riunire tutte le associazioni di categoria del mondo del credito. Tutti i professionisti, dalla concessione, alla gestione, al recupero, alla garanzia del credito, sono tutti oggi qui presenti. Quindi diciamo che l'obiettivo è stato centrato e siamo contenti di questo.